Sogni e realtà fra palco e strada e la denominazione dello spettacolo organizzato dall'associazione Concivenze è andato in scena venerdì scorso in piazza San Giacomo a Gela. Sono stati coinvolti numerosi giovani che si sono esibiti nel corso della serata alternandosi in vari momenti dedicati alla moda, alla danza e alla musica. Non sono mancati gli spazi dedicati ai più piccoli con laboratori creativi e animazione con marionette e cantastorie che hanno dato vita ai racconti legati alla tradizione locale. Soddisfatti gli organizzatori della serata Mirko Grasso, Conci Liardo e Beppe Quattrocchi che hanno dichiarato di essersi commossi per la presenza di un numeroso e coinvolto pubblico. Alla console ad animare la serata con la sua musica ci ha pensato il DJ gelese Graziano Lacognata. La serata è stata condotta da Lucio Gatto e Sofia Quattrocchi. L'obiettivo degli eventi organizzati dalla Conci Events, come affermano gli stessi organizzatori, è soprattutto un obiettivo sociale che tende al coinvolgimento di quanti più giovani possibile affinché possano impegnarsi in attività artistiche piuttosto che lasciare un vuoto nei loro momenti di svago.